E' fondamentale perché il diritto alla salute, il diritto a stare bene anche nei momenti di criticità come può essere quelli della malattia è un diritto fondamentale della persona garantito anche dalla nostra Costituzione. E quindi non è mai vinta la sfida per raggiungere questo obiettivo, cioè far sì che anche le persone che si trovano in un momento di criticità per la propria fisicità possano sentire intorno una rete di strutture, di persone, di saperi, di conoscenze che diano il massimo e il meglio di se stessi per aiutare loro e le loro famiglie a stare bene. In particolar modo la fondazione di cui faccio parte, Human Foundation, che è stata partner e che è partner di AIL in una serie di progetti, si occupa proprio di misurare l'impatto sociale che le scelte fatte da AIL hanno nel raggiungere questo sforzo. Un impatto che quindi può essere misurato e certificato per dimostrare quanto questi sforzi siano importanti e fondamentali per consentire alle persone di stare bene e per produrre nell'indotto un risparmio e un maggiore investimento per raggiungere tutti insieme questo obiettivo. Grazie.